Il Palermo torna ad allenarsi al Grilli di Storo, riprende la preparazione per il campionato dopo due giorni di stop per la squadra di Giuseppe Iachini, lavoro di carattere tattico ed esercitazioni atletiche, la seduta si è poi chiusa con degli esercizi di carattere tecnico e la partita in campo ridotto. Roberto Vitiello ha lavorato con i compagni ad eccezione della partitella finale, esami preoperatori invece per Michel Morganella che domani si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla mano sinistra, domani il Palermo sosterrà un test contro la formazione locale, ovvero quella del calcio chiese in programma alle 18 sempre al Grilli di Storo, in mattinata invece è prevista una seduta d'allenamento.